La mobilitazione nazionale oggi 21 ottobre ma presidi si stanno svolgendo in tutta Italia da parte dei lavoratori del settore dei multiservizi. La richiesta anche a Cremona è quella del rinnovo del contratto atteso da sette anni. Nella provincia sono circa un migliaio i lavoratori del settore che oltre alle pulizie comprende facchinaggio, manutenzione, portierato, custodia, sanificazione. Ma la trattativa con i vertici datoriali è bloccata da tempo nonostante l'impegno delle parti per chiudere il confronto e malgrado il raggiungimento di un avviso sottoscritto dai sindacati Filcamps, CGL, Fisaskat, CISL e Wiltrasport insieme alle associazioni imprenditoriali di categoria e rivolto al governo lo scorso giugno. Nel settore larga parte dei committenti sono le amministrazioni pubbliche. Due anni fa eravamo quasi vicini alla firma, poi per ragioni di divergenze nella trattativa non si è concluso nulla. Adesso, in questa fase critica di pandemia Covid, le aziende hanno fatto anche business, quindi non capiamo questo atteggiamento di ostruzionismo e ostile nei confronti dell'organizzazione sindacale e dei lavoratori di non voler rinnovare il contratto collettivo. Ripeto, ha scaduto sette anni fa, un contratto molto importante perché a livello nazionale raccoglie tantissimi addetti e in questo periodo questi addetti, soprattutto negli ambienti ospedaliere, hanno continuato a lavorare, hanno continuato a mantenere alti livelli di pulizie, di sanificazione e di disinfezione. Quindi non sono solo cooperative. Il problema è che hanno fatto cartello all'interno delle grandi organizzazioni datoriali e non intendono rinnovare questo contratto. Quindi noi siamo in enorme difficoltà.